Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di lunedì 3 febbraio 2020. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, siete sul canale 17 del Digitale Terrestre. Un buongiorno anche a coloro che ci seguono attraverso i social network e le varie piattaforme. Siamo qui per iniziare una nuova giornata, iniziare un nuovo mese e insomma partire con un po' di grinta, un po' di sprint, questo nuovo mese che ci portarà un mese dedicato al carnevale almeno in gran parte delle nostre belle città marchigiane. E diamo lo sguardo tra poco anche al tempo perché ci sono dei cambiamenti anche se poi, soprattutto repentini del tempo, passeremo come vedremo tra poco da una giornata di caldo primaverile a freddo polare, ma tutto questo in una manciata di ore. Prima però c'è il santo, un santo importante che si può tranquillamente invocare, pregare perché è San Biagio ed è il protettore della gola. Soprattutto in queste giornate di caldo freddo avremo bisogno di San Biagio probabilmente, San Biagio che è anche però protettore degli animali domestici. Il sole sorgerà alle 7.24 e tramonterà alle 17.20. Allora vediamo subito questa copertina di trebimeteo.com che per oggi ci dà uno spaccato e ci fa capire un po' come sarà l'Italia divisa in due tra il sole a centro nord, escluso le Alpi dove ci sarà un po' di neve e il sud che invece sarà interessato, centro sud, sarà interessato da sole, pioggia ma anche neve lungo la catena appenninica. C'è questa eruzione fredda da domani con neve anche a quote basse e un brusco, come dicevamo, calo termico. Per quanto riguarda invece le Marche, la protezione civile delle Marche per oggi prevede un cielo sereno poco nuvoloso con temperature minime stazionarie e le massime invece saranno in ulteriore lieve aumento. Avremo dei venti sud occidentali di brezza tesa sui settori interni e meridionali e di brezza leggera lungo la fascia costiera. Ma il vento inizierà ad aumentare e lo vedremo nella giornata di domani, domani martedì, quando il vento, i venti saranno fino addirittura tempesta violenta su tutta la regione, quindi domani sarà una giornata particolare da questo punto di vista, bisognerà fare molta attenzione. Il tempo per domani invece sarà con pioggia, che sarà di debole intensità, ma ci sarà anche la neve intorno ai mille metri soprattutto verso sera. Diamo uno sguardo velocemente invece alle temperature previste per oggi, in attesa che arrivi domani il calo drastico della colonia del Mercurio. Guardate alle 14 di oggi, per esempio, le temperature che assomigliano più a temperature tardo-primaverili, perché toccheremo i 20 gradi addirittura fermo, così come a Osimo, Fano-Pesaro saremo intorno ai 16-17 gradi, quindi insomma temperature ben al di sopra della media del periodo. Ieri Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro era a Torino a guardare la partita, la Juventus che ha giocato contro la Fiorentina, nel frattempo ha scritto anche sui social, ha fatto due assessorati nuovi, alla gentilezza e al rigore. Insomma, qualche ora prima aveva, con la nomina della Frequellucci, aveva fatto andare su tutte le furie il capo politico Crimi, che da Roma aveva criticato questa scelta di inserire una pentastellata all'interno della giunta PD. Di questo si parla, ma si parla anche dell'eco-domenica a Fano, che rispetto alla prima e al debutto è andata un po' meglio, con meno ingorghi e con più gente che invece l'ha presa con Filosofia e addirittura ha fatto qualche passeggiata e si è messa a giocare sui viali, notoriamente invece trafficatissimi durante la settimana. Ma c'è anche lo sport a centropagina, è andata malissimo per la Vispesaro e per il Fano, tutte e due finite al tappeto. I pesaresi travolte Padova con quattro gol, mentre l'Alma Juventus piegata a Reggio Emilia si è presa due gol, ne ha segnati soltanto uno. Il titolo però, dicevamo, è per la politica pesarese, dall'innovazione alla gentilezza, Ricci cambia marcia alla giunta, titola l'edizione di Pesaro del Corriere, entra la Frenquellucci, bilancio a Pozzi, tre deleghe inconsuete, poi Briglia che diventerà Disability Manager. E poi la settimana decisiva per la crisi aziendale della Berloni, una settimana chiave, questa per il futuro di questa importante azienda che produce mobili e cucine soprattutto e dei suoi dipendenti. I sindacati chiedono di poter essere della partita e incidere sulle scelte. Poi, di taglio basso, Raffaello, siamo a Urbino, occasione unica, evitiamo gli stessi errori. Scaramucci lancia proposte e stimoli per la città ducale, poi ricorda la candidatura a Capitale della Cultura. Il 2020 è un anno decisivo, coinvolgiamo la città e non sprechiamolo, questo è l'invito dell'imprenditore turistico Scaramucci che segnala come il fallimento della candidatura di Urbino, Capitale Europea della Cultura 2019, derivò anche dal mancato coinvolgimento dei cittadini e lancia delle idee. Questa invece è il Carlino di Pesaro, la fotonotizia è per questo giovane, si chiama Giordano Cardellini ed è un non vedente, un cieco, è campione d'Italia di tiro con l'arco, dal buio all'oro il titolo. Frequellucci, l'ora della sfida, il neoassessore deciderà domani se autosospendersi dal Movimento 5 Stelle oppure tirare dritto contro il diktat dei vertici romani, poi il calcio, Viss che scoppola a Padova, prende quattro gol, è il K.O. peggiore e sempre in serie C, Fano si perde nella nebbia di Reggio. C'è la testimonianza, la polemica, sempre per quanto riguarda lo stop delle auto a Fano, una polemica che riguarda uno dei 12, 13, 15 possessori di auto elettriche fanesi. Sono tanti infatti, relativamente tanti insomma, 15 persone su 60 mila, non sono poi tantissime ma comunque Vizio è uno di questi e lo vedete nella fotografia mentre ricarica la sua auto completamente elettrica, non è ibrida, è completamente elettrica. Ebbene anche lui dice, anche io, sono rimasto bloccato, ho dovuto lasciare l'auto ferma perché non potevo circolare e dire che insomma un'auto elettrica di emissioni di inquinamento ne produce praticamente zero. Il PD e la cena di Sant'Antonio, politica e beneficenza, grossa partecipazione ma la visione invece del Corriere Adriatico, come leggeremo tra poco, è diversa. Sì, c'era tanta gente, 200 persone a questa cena che si svolge ogni anno ma mancano dei nomi e dei nomi anche di un certo peso. Vedremo i presenti e gli assenti tra poco, faremo l'appello come a scuola. VL invece anche qua, tornando allo sport, ma non parlando di calcio ma di basket, le rivali per la salvezza si allontanano, Pistoia e Trieste vincono entrambe al fotofinish eppure Procaccini invita a crederci ancora ma la crisi davvero della VL si aggrava pesantemente. Atletico e Fosso, soltanto pareggi, Gibam a Corsara, invece gli altri sport, parliamo di calcio e di volley, la Gibam che vince 3-7 a 0, i ragazzi di Omiccioli invece rimontati di due gol dal Grottamare, Urbani a KO a Senigallia. Questa è Ancona invece, guardate la fotografia di questo papà, questo papà di Sassoferrato che è stato arrestato in Grecia perché voleva rivedere semplicemente la figlia, si chiama Emilio Vincioni, è stato fermato dalla polizia alla frontiera di Atene con la borsa piena di giocattoli per la bambina che la mamma gli ha portato via nel 2016 appena nata. Dice lui sono stato trattato praticamente come un criminale. E questa invece è la fotografia dei tre maceratesi che sono rientrati dalla Cina. Dice finalmente siamo a casa, ora dieci giorni senza uscire praticamente questi tre maceratesi, Mirko Pelati, Fabrizio Galdelli e Federico Copponi hanno deciso di mettersi in quarantena, dunque stare a casa per i prossimi dieci giorni senza uscire, possibilmente con le mascherine. Poi Traini, ricorso con l'avvocato Coppi, due anni fa il raid, il lupo si affida all'ex legale di Andreotti per chiedere lo sconto di pena in Cassazione. Centro of Limits, calano le proteste, nel pomeriggio si anima il passeggio in colonnamenti nelle vie alternative, smog intorno all'ospedale, luci e ombre per i ristoratori che invece la prima domenica avevano criticato fortemente questa chiusura, avevano, dicono, hanno lavorato pochissimo, invece pare che qualcuno, questa volta, a qualcuno sia andata meglio e che quindi molto probabilmente si sono anche organizzati poi meglio gli automobilisti tenendo conto che poi la giornata di ieri non era una giornata di pioggia, quindi si poteva tranquillamente fare due passi a piedi e parcheggiare la macchina proprio non davanti al tavolo del ristorante ma anche un po' più in là. Quindi fanesi in giro ce n'erano, abitanti dell'entroterra che hanno accolto l'invito del sindaco di Fano di approfittare di questa domenica ecologica per passeggiare nel centro cittadino, l'attrattiva di una Fano solo in parte sgomberata dalle auto non ha esercitato un grande interesse dato che molti negozi in mattinata sono rimasti chiusi e le difficoltà di avvicinarsi al centro storico, specialmente per chi non era pratico della viabilità fanese sono stati evidenti. Comunque alla fine tutto è andato bene, in una settimana l'aria si è un po' ripulita dopo il superamento del limite delle polveri sottili che era stato registrato nella prima domenica ecologica del 26 gennaio, diciamo che è andata un po' meglio, poi oggi vedremo meglio invece il risponso della giornata di ieri, vedremo se in particolare in centro l'aria grazie a questa seconda domenica ecologica si è davvero ripulita e il livello di polveri sottili si è abbassato, il livello di PM10. Intanto l'altro titolo, il sindaco abbassate di un grado il riscaldamento, sempre massimo seri, le esortazioni sono per ridurre l'inquinamento che riguardano anche l'uso delle biomasse, è un'ordinanza che il sindaco ha firmato venerdì scorso. Eccolo qua, Marco Vizzini con la sua auto elettrica fabbricata da Tesla, sono auto, ho dato prima una sbirciata perché mi interessava capire un po' il particolare di questa auto, è un'auto tra l'altro anche costosa, costa 50-60 mila euro, completamente elettrica, si ricarica, ci vogliono 35-40 minuti al massimo per ricaricarla, a Fano non ci sono molte colonnine a dire il vero e anche qui Vizzo lancia la sua polemica dicendo che il sindaco o comunque l'amministrazione aveva detto, dichiarato, aveva promesso che nel 2018 per o meno avrebbe installato a Fano 11 colonnine per le ricariche, in realtà ne contiamo credo un paio al Tagotel e poi nella zona del centro commerciale Fano Centro, Fano Center, quindi altro nella zona di Fano non c'è, però ecco quello che a lui non è andato giù è di non essere potuto, di non aver potuto circolare con la sua auto completamente elettrica, quindi a impatto, a inquinamento zero, nella giornata di ieri e di essere stato obbligato a lasciarla in garage. Questa è una vicenda assurda, dice Marco Vizzini, ci sono città invece come Milano e altre città dove invece le auto elettriche possono circolare tranquillamente. Intanto nella città vuota c'è chi gioca anche a frisbee, questo invece è sempre il resto del Carlino, sulla domenica ecologica di ieri pubblica queste due fotografie di questa coppia che ha il frisbee in mano e qua una vigilessa che sta all'inizio, che sta insomma in via Roma a regolare il traffico. Complice il bel tempo, la seconda ecodomenica ha dato l'occasione ad Antifanesi anche per godersi gli spazi cittadini. Non sono state elevate multe rispetto alle 13, ai 13 verbali della prima domenica. E poi ricordiamo che domenica poi ci sarà il carnevale, quindi altro stop, ma questa è un'altra storia. Cambiamo pagina e cambiamo argomento. Il centro della candidatura sia sull'imperatore Augusto, capitale della cultura, lo studioso De Santis, critica l'impostazione su Vitruvio. Verrà presentata oggi alle 11, questa mattina, nella Sala della Concordia, la giornata di studi su Leonardo nella città di Vitruvio, che è organizzato dal Centro Studi Vitruviano per venerdì 14 febbraio, che avrà come protagonisti gli studiosi e curatori delle principali mostre su Leonardo tenutesi nel 2019 a Fano, Venezia, Torino, Napoli, Roma, Milano, Firenze, Vinci e Arlem. Un'iniziativa che prolunga il rapporto tra il genio del rinascimento e l'architetto romano già valorizzato nel corso del 2019. I legami con l'architetto sono incerti, quelli invece con la guida politica di Roma sono sicuri e solidi. Ecco perché De Santis dice spostiamo l'attenzione da Vitruvio a Cesare, all'imperatore Augusto. Sotto invece si parla del libro dell'ex sindaco di Saltara, Claudio Guccioni, un libro, un giallo, che è stato presentato l'altra sera, anzi che verrà presentato stasera a Sant'Ippolito, Il Purgatorio non è eterno e a scriverlo appunto è colui che ha guidato il comune di Saltara per 17 anni ed è stato anche consigliere comunale a Fano e che adesso è anche scrittore perché ha questa passione che dice lui, dice di aver sempre avuto dentro. È un giallo avvincente sui segreti della chiesa, questo è il titolo. Poi torniamo sul resto del Carlino, questa è sempre la pagina di Fano. Ladri, siete avvisati se entrate sono armato, è la minaccia perché è una minaccia. Egidio Mascarucci, 84 anni, muratore in pensione, ha messo un cartello davanti casa, furti a non finire, qui non ne possiamo più, queste mura le ho costruite con le mie mani, non sopporterei l'intrusione dei valori. Poi c'è un post di Eros Ramazzotti sullo Jabi Maxi Dancing a Marotta, lo ricorderanno in tanti, quel mitico luglio del 1986 a Marotta, scritto su Instagram il cantautore che ha venduto qualcosa come 60 milioni di dischi, insomma Eros Ramazzotti non aveva bisogno certo della mia presentazione, ma fa notizia certamente questo Amar Cord, questo post che Eros Ramazzotti appunto ha fatto ieri penso qualche giorno fa insomma su Instagram dove ha ricordato postando questa foto appunto luglio, quel famoso luglio del 1986, terra promessa la canzone che andava tra i tanti grandi successi di Eros Ramazzotti. Una foto del 1987 e la scritta discoteca Jabi di Marotta ricordi indelebili naturalmente Ero in Tour, un post che ha attirato subito migliaia di commenti dei fan con ricordi di chi proprio quella sera aveva ascoltato il concerto marottese di Eros. Adesso andiamo invece a vedere la composizione della nuova giunta voluta da Matteo Ricci a Pesaro. Ne approfittiamo di questo riquadro che ha composto il Corriere Adriatico, la giunta è formata da Matteo Ricci ovviamente sindaco e che ha anche le deleghe di pianificazione e marketing della città. Poi c'è Daniele Vimini che è vice sindaco e assessore alla bellezza, alla cultura, al turismo, gemellaggi eccetera eccetera. Poi c'è Enzo Belloni assessore all'operatività, nuove opere, manutenzione e viabilità eccetera. Ed ecco la new entry Francesca Francoellucci che è del Movimento 5 Stelle ed è stata nominata poi chiaramente ancora c'è da formalizzare il tutto, assessore all'innovazione, attività economiche, reti informatiche, città digitale, servizi demografici, nuova partecipazione e università con la quale ha debuttato. Giuliana Ceccarelli poi assessore alla gentilezza, eccola qua, questo nuovo assessorato, crescita, servizi educativi, poi scuola pari opportunità e lotta all'odio. Riccardo Pozzi, assessore al rigore, bilancio, patrimonio, sicurezza e polizia locale. Andrea Nobili, assessore alla rapidità, urbanistica, sportello unico edilizia privata. Sara Mengucci, assessore alla solidarietà, Mila Dell'Adora alla coesione, benessere al personale, Edi Morotti alla sostenibilità, l'ambiente e poi la delega, questa è la delega nuova, Rito Briglia, che sarà, essendo consigliere, disability manager della delega per Briglia. E scrive il Corriere Adriatico questa mattina, mentre Matteo Ricci a Torino si guarda Juve Fiorentina, il gioco non esaltante lo delude, così si inventa due nuove deleghe e fa il quadro della nuova giunta. Tira dritto, Ricci non molla l'osso e svolta. È il primo sindaco PD d'Italia che si porta in giunta un assessore a 5 stelle. Martedì si riunirà la prima giunta, rinnovata con l'ingresso di Francesca Franco e Lucci e tre nuovi assessorati, alla gentilezza, all'innovazione e al rigore. Delle Noci invece sarà nominato presidente di Marche Multiservizi e poi insomma ci sono anche le reazioni. Questo articolo chiaramente che fa riferimento anche a quello che è successo a Roma con Crimi per primo, che ha criticato la Franco e Lucci e questa sua decisione, mentre insomma dalla base qualcuno invece dice no, ha fatto bene perché noi guardiamo gli interessi della città e non quelli dei partiti. Insomma, in linea di massima bisognerà adesso aspettare qualche ora per capire se la Franco e Lucci resterà nel movimento oppure uscirà. Di sicuro una cosa è certa, rimarrà in giunta e prenderà la delega di assessore, le deleghe che il sindaco Ricci le ha affidato. Ricci che stasera sarà nostro ospite qui, salvo imprevisti dell'ultima ora, ma è confermata la diretta di questa sera qui su Fano TV alle 20.45-20.50 all'interno di Primo Cittadino. Di argomenti ovviamente da trattare ce ne saranno tantissimi, ma i pesaresi che ci ascoltano e che vogliono rivolgere domande al sindaco per anche questioni che riguardano la loro città, lo possono fare chiamando i numeri che ormai conoscete. Poi c'è una cena, una cena che il Corriere definisce del grande freddo nella tara del governatore Luca Ceriscioli. È una cena che si ripete ogni anno in occasione di Sant'Antonio, che però quest'anno ha perso un po' di appilla, un po' di attrazione. È una cena che si fa a Villa Fastigi, dove sono mancati Ricci e addirittura tutti i manager di Marche Nord. E dire che le splendide cuoche volontarie che hanno come sempre cucinato e portato in tavola tagliatelle al ragù, stiate a mano, l'arrosto misto con forno alla braccia, le patate al forno, l'insalatina mista, le castagnole, tutto apprezzato. Loro ce l'hanno messa tutta per servire questi 200 commensali, ma tra loro c'erano degli assenti. Chi sono questi assenti? Dicevamo intanto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Poi non c'era il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, e come lei ha fatto il resto della Terna perché hanno condiviso la sua scelta di non partecipare il direttore sanitario Edmondo Berselli e quello amministrativo Alberto Draisci. Assente anche il marito della Capalbo, il consorte Nicola Nardella, recente vincitore del primariato dell'unità complessa per libere professioni che sana così la discussa presenza in ruoli dirigenziali di moglie e marito all'interno della stessa azienda. Ma mancavano anche l'ex procuratore capo Manfredi Palumbo, anche lui dopo anni e anni di assiduità, quest'anno è mancato, non ha partecipato, solitamente era al tavolo insieme a un altro commensale che ieri ha disertato, ovvero il presidente del Tribunale di Urbino Massimo Di Patria. L'attitante anche Confindustria, non si sono visti nel presidente Mauro Papalini, nel direttore Salvatore Giordano. C'era invece, erano presenti il presidente di Aspes e di Pesaro Parcheggi Luca Pieri, ma non c'erano invece Palmiero Ucchielli, ancora altri assenti e al Merino Mezzolani. Insomma, siamo a ridosso delle regionali e dunque, insomma, c'è anche da dire questo, di conseguenza non era per le tagliatelle sicuramente, ma per una questione di opportunità. Cessata l'attività Berloni, resta in attesa, è la settimana delle proposte d'acquisto. Sono giorni davvero importanti questi, per la sorte dell'azienda messa in liquidazione. I sindacati chiedono di incidere sulle scelte. Intanto vedete qui la fotografia dei lavoratori della Berloni, alcuni dei quali hanno già trovato, parliamo di ottantina, se non ricordo male, di lavoratori. Circa 17 hanno accettato un nuovo lavoro su 90, ecco 90, 90 dipendenti totali. Lograno dice il tempo incalza, più ritardi accumuliamo più sarà difficile ripartire con la produzione. Intanto a Pesaro si discute anche della pattuglia unica a tre e con il piantone. C'è stato un plebiscito della Polizia Municipale, sull'orario notturno su 70 genti hanno votato tutti sì, tranne due che erano contrari. L'esito è del referendum in un documento per quanto riguarda l'Assemblea. Oggi c'è un incontro con il comandante Galdenzi e il personale di Pesaro e Pian del Bruscolo. Ancora dai giornali, da Valefoglia, Turisti in mountain bike, lo sport sposa l'ambiente, Biancani avanza una proposta di legge per inserire i percorsi nella rete escursionistica e poi da Urbino, Raffaello, non ripetiamo gli errori, come abbiamo visto in apertura, parla Federico Scaramucci nel ruolo però di imprenditore turistico ed esorta a coinvolgere anche i cittadini, anche gli urbinati, poi le associazioni e le categorie. Idee sono un grande festival, l'abolizione della tassa di soggiorno, la promozione di Urbino, città verde. E poi la candidatura a Capitale Europea della Cultura fallì, dice ancora, anche perché la città rimase praticamente apatica, come dire, non gliene è importata, non gliene è importato assolutamente nulla. E poi è nata l'Accademia Corale Ottaviano Petrucci, programma di concerti con le formazioni ospiti e poi la campagna contro le processionarie, quest'anno parte in anticipo a Urbino, questa campagna contro le processionarie a causa dell'alta temperatura invernale. Quindi l'ordine, l'obbligo è che tutti i nidi devono essere distrutti, quindi c'è l'obbligo, soprattutto per i privati appunto, di distruggere, perché altrimenti si incorre in verbali e multe. Siamo a San Lorenzo in campo, sanità, sindaci inascoltati, dobbiamo dire la nostra, dell'Onti, che è il sindaco di San Lorenzo, rivendica la convocazione della conferenza di area vasta. L'organismo è decaduto per le amministrative, 11 membri possono chiederne la riunione. Poi per 20 neonati a Terre Roveresche il Comune eroga 100 mila euro, un contributo di 5 mila euro a testa dal Comune di Terre Roveresche, però salta l'incentivo ai negozi. Sono 20 i nuovi nati nel 2019 a Terre Roveresche e a loro favore il Comune ha stanziato 5 mila euro cada uno per una somma totale di 100 mila euro. Il ventunesimo richiedente è stato respinto in quanto non era residente in Comune. Velocemente andiamo sull'ultima pagina, da Senigallia, sempre dal Corriere, sbornia, elite con i genitori, poi si addormenta in strada, ad Ostra, un giovane stato soccorso dai carabinieri, controlli sulla movida, alcol e spinelli. Una ragazza di Loreto è stata sorpresa con uno spinello vicino a una discoteca ed è stata segnalata alla Prefettura. Poi guardate la fotografia di questi panini gettati nel bidone dell'organico, il racconto dell'uomo che ha fatto la scoperta, a me non li hanno dati. Sabato alcolico per molte donne, sempre da Senigallia, questa volta il Carlino, a parlarne, i controlli dei carabinieri hanno fatto emergere anche la presenza di droga fuori dalle discoteche. E con questo chiudiamo qui la rassegna stampa. È tardi, sono le 7.28 per chi ci segue in diretta, tra poco c'è la messa dalla Santa Casa di Loreto, stasera il telegiornale 20.30, poi primo cittadino come abbiamo già ricordato con il sindaco Matteo Ricci. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.